Cari amici della nostra trasmissione, parliamo e cantiamo in Piemonteis. Questa volta parliamo in Piemonteis, ma sarà una cosa un po' speciale, diversa dalle solite, perché parliamo del Piemonteis, quindi in Piemonteis, ma parliamo del Piemonteis, per vedere un po' come è nascita il Piemonteis e perdesse l'orgioio proprio di capire che il Piemonteis è una lingua e una lingua in dialetto e l'italiano. Il Piemonteis è una lingua che si dice neolatina, cioè una delle lingue come l'italiano, il francese, l'usitano, l'espagnolo, il portugais e il rumeno, che sono formate dal latino. E' una storia di tanti, tanti secoli. Forse la prima popolazione che l'ha passato le sue parole nel nostro Piemonteis sono i Celtoliguri. I Celtoliguri erano la popolazione, in italiano si dice, autottona, proprio del posto, ecco, prima che arrivassero le altre occupazioni, le altre popolazioni. E loro hanno avuto un periodo di sviluppo dal V al I secolo prima di Cristo, quindi cent'anni prima di Gesù. E hanno passato in questo Piemonteis tante parole che ancora noi dovremmo. Io ne dico anche i due, per esempio, la balma, la balma della caverna, la grotta. Il corso d'acqua nel Piemonteis dice il bial o la bialera. E quando tirano un vent freddo, dicono, oh, ma che bella! Pensi un po', la persona cieca che vuol dire, dicono, il borgno, ma fai più attenzione al confronto Piemonteis italiano. Per voi di proprio che smiungo niente, le proprie altre parole che niente l'ha a fare con l'italiano. Ma, per esempio, i pantaloni, noi disummo le braie, braie, pantaloni, per carità. L'altura, il monte, le bric, chi se niente, noi disummo le surde, ma ventaria di le ciorgne, ciorgne, le piemontese. E poi guardiamo le bestie della fattoria. Il maiale ha il crin, quindi non è il maiale, ma il crin. Il gancio ha il croc.